E' di questi giorni comunicato del quotidiano il sole 24 ore che certifica il bilancio della nostra regione come il più virtuoso d'Italia. Il dato è desunto dall'analisi presentata dalla Corte dei Conti Regionali e non può che essere una fortissima testimonianza delle capacità di questa Giunta di tenere in ordine i conti nonostante la stagione di grandi riforme che nel frattempo l'intera amministrazione di centro-sinistra, Giunta e Consiglio hanno messo in campo in questi ultimi tre anni e le sfide sociali che hanno dovuto affrontare nella stagione della più grave crisi economica della storia della regione e della crisi migratoria internazionale. La riforma della sanità tra le più coraggiose attuate in Italia, la riforma degli enti locali con la cancellazione delle province e la costituzione delle UTI che ha anticipato le riforme costituzionali, la riforma della casa, la riforma delle attività culturali e degli interventi per venire incontro alla necessità di creazione di posti di lavoro, al sostegno al reddito delle famiglie in difficoltà a prima forma in Italia di reddito di cittadinanza e agli interventi per la costruzione di un sistema di accoglienza efficace per le migliaia di migranti giunti sulle nostre terre. Tutte riforme che il centro-destra nella passata amministrazione ha solo tentato di fare ma ne è stato totalmente incapace ed i risultati di questa azione stanno prendendo corpo. 12.000 alle domande di sostegno al reddito che beneficiano circa 30.000 persone, la quasi totalità della povertà relativa della nostra regione, calo della cassa integrazione del 31.5 nel 2015 rispetto al 2014, aumento dell'occupazione dal primo trimestre 2015 al primo trimestre 2016 di 5.200 unità e tutto questo dopo essere stati i più bravi in Italia a tenere i conti in ordine.